La gara contro l'Inter deve essere una sorta di esame di maturità per la formazione di Fonseca, esame di maturità che la Roma ha passato, non ha pieni voti, però è comunque riuscita a essere promossa ed è questo importante anche se non ha battuto l'Inter e quindi continua la Roma a non vincere contro le squadre che stanno davanti a lei, però è riuscita a tenere testa alla formazione di Conte non solo, ma anche ad avere avuto una capacità di reazione direi importante dopo essere andata sotto per 2-1. Un buon primo tempo, vantaggio, poi 20-25 minuti tra la fine del primo tempo e il secondo tempo in cui la Roma è stata troppo in balia dell'Inter e ha subito l'1-2 che ha fatto un po' vedere gli spettri a chi segue ormai la Roma da tanto tempo e quindi il timore magari di rivedere un'altra sconfitta, magari sonora come è successo a Bergamo contro l'Atalanta, poteva esserci. Invece Roma ha avuto la capacità di reagire e farlo molto bene, pareggiando, in maniera assolutamente meritata, in qualche modo forse anche avvantaggiata e favorita anche da alcune scelte di Conte aver tolto Lautaro e messo dentro uno come Perisic, ma fondamentalmente perché la Roma ha avuto una capacità di reazione assolutamente positiva e da qui bisogna partire. Questo deve essere un punto di partenza per la Roma, oggi non deve essere un punto di arrivo, è un punto di partenza perché da qui a Roma deve continuare ad andare avanti e deve cercare di migliorare, migliorare naturalmente anche a livello di organico, ma ad avere sempre più consapevolezza, cioè non subire poi troppo passivamente quando si ha un avversario forte di fronte che in qualche modo cerca di schiacciarti, ma avere quella capacità, quella forza, quella capacità di reazione che ha avuto invece subito dopo il 2-1 in cui ha chiuso veramente l'Inter nella sua metà campo. Ma sono insomma delle tappe di avvicinamento ad una condizione che dovrebbe portare, speriamo, presto la Roma a lottare veramente per i vertici a livello nazionale. Comunque siamo là, terzo posto, terzo posto che è consolidato, bisogna vedere quello che farà la Juventus stasera se vince magari arriva a un solo punto da noi, comunque ci siamo insomma ed è importante per la squadra di Fonseca, è importante non avere avuto gli ammoniti oggi sia i Bagnaz che Cristante che erano diffidati, adesso vanno in diffida anche Villar e Bancini, però migliore secondo me, giusto dirlo, Paolo Lopez, tante volte lo abbiamo criticato, oggi è stato assolutamente strepitoso due interventi, uno su Lautaro, un altro su Lukaku, qualche piccolo errore lo ha fatto, comunque è andato veramente molto bene, secondo me migliore in campo assieme Paolo Lopez è stato anche Pellegrini. Bene Cristante che è entrato, direi bene anche Perez che è entrato al posto di Spinazzola che non aveva certamente i 90 minuti ancora nelle gambe, però adesso guardiamo alla prossima gara, quella di venerdì prossimo contro i complessati, per cercare di fissare sempre di più, consolidare sempre di più questo terzo posto in classifica e cercare di mantenere la zona Champions intanto fino alla fine del girone di andata. Un abbraccio a tutti quanti voi e sempre, sempre, sempre forza Roma, forza Roma, forza Roma.